Oggi, nel nostro video, ci concentreremo su un momento particolarmente interessante e misterioso della serie tv Terra Amara, il borseggiatore di Zuleya. Ricordate quella scena? Zuleya, un personaggio centrale della serie, viene avvicinata da un ladro che le ruba la borsa. Questo evento potrebbe sembrare a prima vista un semplice atto di criminalità, ma in una serie come Terra Amara, dove ogni dettaglio può nascondere qualcosa di più grande, ci si chiede chi è veramente questo borseggiatore? Una delle domande che ci poniamo è se il borseggiatore sia un personaggio già noto nella serie o se, in seguito, verrà rivelato come un parente o un conoscente di uno dei personaggi principali. In Terra Amara, le relazioni tra i personaggi sono spesso complesse e intrecciate, quindi non sarebbe una sorpresa scoprire che il borseggiatore ha un legame più profondo con la storia. Durante il video, analizzeremo attentamente questa scena, esaminando ogni dettaglio per vedere se ci sono indizi che potrebbero suggerire l'identità del borseggiatore. Guarderemo anche i personaggi secondari e le loro relazioni con i protagonisti per vedere se ci possono essere collegamenti nascosti. Ma non è tutto. Abbiamo una rivelazione molto importante da fare riguardo a questo borseggiatore. Verso la fine del video, vi sveleremo un segreto che vi lascerà senza parole. Questa rivelazione potrebbe cambiare il modo in cui vedete la serie e aggiungere un nuovo livello di suspense e mistero. Quindi vi invito a rimanere con noi fino alla fine del video. Questa analisi potrebbe far luce su alcuni degli aspetti più nascosti di Terra Amara e potrebbe essere la chiave per capire meglio i complessi intrecci della serie. Non perdete questa opportunità di scoprire un segreto sconvolgente che potrebbe cambiare tutto ciò che pensavate di sapere su Terra Amara. Nella serie tv Terra Amara, che tornerà sugli schermi a gennaio, vedremo l'ingresso di un nuovo personaggio, Hakan, che avrà un ruolo significativo nella vita di Zuleya, uno dei personaggi principali della serie. Hakan, un personaggio misterioso e intrigante, farà la sua prima apparizione in una scena piuttosto eroica. Salverà Zuleya, la moglie di Demir, da un tentativo di furto. Questo primo incontro tra Hakan e Zuleya avviene in modo del tutto inaspettato. Zuleya si trova in una situazione pericolosa, quando un ladro cerca di rubarle la borsa. Hakan, che si trova lì per caso, interviene prontamente e riesce a salvare Zuleya dal ladro. Questo gesto coraggioso e inaspettato lascia Zuleya sorpresa e grata verso questo sconosciuto che le è venuto in aiuto. Dopo questo salvataggio, Hakan e Zuleya si incontrano di nuovo, questa volta per caso. Questi incontri casuali tra loro creano una sorta di connessione speciale, quasi magica. Zuleya, che ha vissuto momenti difficili e complessi nella serie, sembra trovare in Hakan qualcuno di inaspettatamente gentile e premuroso. Il colpo di scena arriva quando Hakan si presenta a Villa Yaman, la residenza di Zuleya e Demir, con una nuova identità. Si F.A. chiamare Mehmet Kara. Mehmet Kara è l'uomo che ha acquisito una parte dell'azienda di Demir, un dettaglio che aggiunge ulteriore complessità alla storia. Zuleya, ignara delle vere intenzioni di Hakan e della sua identità nascosta, non ha idea che l'uomo che ha iniziato ad affascinarla è in realtà un nemico di suo marito, Demir. La situazione si fa quindi sempre più intricata. Zuleya si ritrova coinvolta con un uomo che ha un'agenda segreta e che si nasconde dietro una falsa identità. Questa dinamica introduce nuovi livelli di tensione e mistero nella serie, poiché galli gli spettatori si chiedono quali siano i veri piani di Hakan e come reagirà Zuleya quando scoprirà la verità. In tutto questo, la trama di Terra Amara si arricchisce di nuovi sviluppi e colpi di scena, tenendogli spettatori incollati allo schermo. L'entrata di Hakan nella vita di Zuleya promette di portare nuove dinamiche e sfide nella serie, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla già intricata rete di relazioni e segreti che caratterizza Terra Amara. Quando Zuleya e Hakan si incontrano per la prima volta, Zuleya è in città per fare delle commissioni. Un ladro in motorino le ruba la borsa. Zuleya chiede aiuto e Hakan, che ha visto tutto dalla sua auto, interviene. Lui fa cadere il ladro aprendo lo sportello della sua auto e restituisce la borsa a Zuleya. Lei lo ringrazia e lo incontra di nuovo vicino al barbiere. Zuleya si presenta e lo ringrazia ancora, ma lui deve andarsene in fretta. Hakan si finge Mehmet Cara quando incontra Zuleya e Betul a Villa Yaman. Lui dice di essere il nuovo proprietario di alcune parti dell'azienda. Zuleya vuole riavere queste parti, ma lui non accetta nessuna offerta e dice che vuole fare affari a Cucurova. Dobbiamo far crescere la città insieme, dice Mehmet a Betul e Zuleya. Zuleya è un personaggio molto importante nella serie televisiva Terra Amara. Interpretata dall'attrice e modella turca Hilal Altimbilek, Zuleya è presente nella serie fin dalla sua prima puntata e continuerà a essere un personaggio centrale fino all'ultimo episodio. La sua storia è una delle più interessanti e coinvolgenti della serie. Zuleya è arrivata nella città di Cucurova con ben poco, ma nel corso delle stagioni ha mostrato una grande forza e determinazione. Con il tempo è diventata una delle figure più influenti e rispettate della città. Questo cambiamento è stato progressivo e ha coinvolto molti aspetti della sua vita e della sua personalità. Dopo la tragica morte di Hunkar nella terza stagione, un altro momento cruciale nella serie, Zuleya ha dovuto affrontare nuove sfide. Ha preso il controllo della tenuta Yaman, dimostrando le sue capacità di leadership e decisione. Questo ha segnato un punto di svolta nel suo personaggio, mostrando quanto fosse diventata forte e indipendente. Oltre a Zuleya, anche altri personaggi come Azize, Fikret, Fadik e Rasit sono rimasti nella serie per tutto il suo corso. Questi personaggi, ognuno con la propria storia unica e intrigante, hanno contribuito a rendere Terra Amara una serie affascinante e ricca di sviluppi inaspettati. Ognuno di loro ha avuto un ruolo significativo nel modellare la trama e le dinamiche della storia. Azize, ad esempio, è un personaggio che ha attraversato molte vicissitudini e ha avuto un forte impatto sulle vicende della serie. Fikret, Fadik e Rasit, a loro volta, hanno avuto storie personali che si sono intrecciate con degli eventi principali, aggiungendo profondità e complessità alla narrazione. In conclusione, la presenza di Zuleya dall'inizio alla fine della serie Terra Amara è un aspetto fondamentale che ha contribuito al successo e all'attrattiva della serie. La sua evoluzione come personaggio, insieme alle storie di Azize, Fikret, Fadik e Rasit, ha reso questa serie un racconto coinvolgente e pieno di emozioni. Gli spettatori possono aspettarsi di vedere ulteriori sviluppi interessanti nei personaggi e nella trama fino all'ultima puntata della serie. Secondo la nostra teoria, il borseggiatore che ha rubato la borsa a Zuleya in Terra Amara non è un semplice personaggio di passaggio, ma si rivelerà essere un parente di uno dei personaggi principali della serie. Questa ipotesi si basa sul modo in cui la trama di Terra Amara tende a svilupparsi, con sorprendenti rivelazioni e legami familiari nascosti che emergono spesso nei momenti più inaspettati. Nei prossimi episodi ci aspettiamo che vengano forniti più dettagli su questo borseggiatore. Potrebbero esserci scene che mostrano il borseggiatore in contesti diversi, forse interagendo con altri personaggi principali in modi che suggeriscono una relazione più profonda. Potrebbe essere rivelato che è un cugino, un fratello o addirittura un figlio di uno dei personaggi principali, un dettaglio che potrebbe portare a nuove dinamiche e conflitti nella serie. Questa possibile rivelazione del borseggiatore, come parente di qualcuno importante nella serie, aggiungerebbe un altro livello di complessità alla già intricata rete di relazioni in Terra Amara. Potrebbe spiegare perché ha scelto di rubare proprio la borsa di Zuleia e se questo atto era parte di un piano più grande o semplicemente una coincidenza. Inoltre, scoprire che il borseggiatore è parente di un personaggio importante potrebbe avere ripercussioni significative sulla trama. Questo legame familiare potrebbe portare a nuove rivelazioni sul passato dei personaggi o su segreti che sono stati nascosti. Potrebbe anche creare nuove alleanze o rivalità tra i personaggi, a seconda di chi sia il parente del borseggiatore e di come reagiranno gli altri personaggi una volta scoperta la verità. In conclusione, la nostra teoria è che il borseggiatore in Terra Amara non sia un personaggio casuale, ma che la sua vera identità e il suo legame con uno dei personaggi principali saranno rivelati nei prossimi episodi. Questa scoperta potrebbe essere un momento chiave nella serie, portando a nuovi sviluppi intriganti e influenzando il corso degli eventi in modi che attualmente possiamo solo immaginare. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni su Terra Amara.